il progetto rota è stato il culmine dell'esperienza erasmus plus che ha preso il nome di body sound division rota nasce da un'idea del professor luca spagnoletti che è docente qui al st louis college di musica elettronica l'idea è stata quella di raccontare cosa prova un artista durante il processo di creazione artistica mi sono trovato a collaborare con tutta una serie di artisti e di professori provenienti da altri campi trovarsi ed approcciare questo mondo insieme ad altri studenti proprio di quel mondo è sicuramente un'esperienza fondamentale per la propria crescita